Ciao, ci troviamo in Val Pellice, diretti verso la Conca del Fra! La prima volta di cimmi in montagna! Ciao, come è allora? Mamma mia, fanicoso, ma bello! Insomma, sei arrivati? Molto bello! Si fa a vincere la Conca del Fra! Ora, giù! Ragazzi, dopo una grande mangiata adesso si torna a casa! Dai! Ali, questo Flavia lo farà solo per te! Però, farlo vedere! Dalla Val Pellice è tutto! Alla prossima! Ciao! Grazie a tutti